Era partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine e le stelle, e il consiglio di prendere, cara la pelle. E quando gli dissero di andare avanti troppo lontano, si spizzi a cercare la verità. Ora che è morto la patria si gloria di un altro eroe alla memoria. Ma lei che lo amava aspettava il ritorno di un soldato vivo, di un eroe morto. Che ne farai se accanto nel letto è rimasta la gloria, è una medaglia alla memoria. Grazie a tutti.